Il calcio di punizione a nostro favore con Farinos che va a fare il portiere Etoldo che deve lasciare il campo anzitempo Veramente incredibile Saranno 5 minuti infernali Djokic che cambia tutto e dà la profondità Matrix di testa, il velo Lascia, Ballbuster con il petto controlla Buono il pallone Può anche prenderlo qua le mani Farinos, non ce lo ricordo Un rimpallo Il pallone giustito sulla sinistra con Fabio Morelio che può avanzare Tentano il tiro ovviamente La respinta di Farinos Che fa il portiere Palla viva Adesso lo tirano, è logico Intanto Farinos è agitato con un po' pomero inferrucito Palla dentro Colpo di testa Gigi Di Biagio Palla che si impenna Ancora Gigi Palla rimessa dentro Una mischia Attenzione Farinos Grande uscita Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.